... Rieccoci in diretta, le novità non mancano, un po' le abbiamo affrontate stasera. L'esercito, ricordo ancora che arriva a Parma, torna dopo 13 anni a Parma in zona stazione, domani documenteremo le opere pubbliche, quello che sta accadendo tra PNRR e finanziamenti già programmati, ma c'è anche il tema stadio che dopo un dibattito molto intenso degli scorsi mesi, anche scorsi anni, oggi sembra imboccare una strada decisiva. Intanto per inquandrare un po' anche le ultime informazioni, le ultime indiscreazioni, sentiamo un servizio che riguarda l'andamento di questa conferenza dei servizi, l'ho firmato per il nostro telegiornale Alberto Rugolotto, e poi facciamo il punto della situazione qui in studio con i nostri ospiti e in collegamento. Vediamo. Nessuna ulteriore richiesta di integrazione, dunque nessuna nuova proroga. Con l'inizio di aprile, secondo i tempi previsti, si chiuderanno ufficialmente i lavori della conferenza dei servizi, chiamata a valutare la conformità e i requisiti del progetto per il nuovo stadio Tardini. Una pasquetta decisiva. La conferenza si era infatti riunita a fine febbraio, dopo che il Parma Calcio aveva chiesto di posticipare la tempistica di consegna di quei documenti integrativi necessari per rispondere alle richieste dei varienti e per chiarire tutti gli aspetti di un'opera così importante. Da allora un mese di assise per valutare l'ulteriore documentazione presentata dalla società ducale. Una finestra che scade tra un paio di giorni, ma che di fatto si è già conclusa, complice il ponte festivo di mezzo. E di novità ad ora non ce ne sarebbero, il pronunciamento dovrebbe essere positivo. La conferenza dei servizi non avrebbe riscontrato mancanze tali da richiedere ulteriori integrazioni. Nel suo parere, come da prassi, ci sarebbero solo prescrizioni e indicazioni per la futura fase esecutiva del progetto. Per l'iter verso il nuovo impianto è un passaggio chiave. Il percorso proseguirà in municipio con il progetto definitivo, la discussione e il voto consigliare che più volte l'assessore comunale allo sport Marco Bosi ha previsto entro il mese di maggio. Andrà però trovato il punto d'incontro col Parma Calcio su temi quali la durata della concessione e le interlocuzioni sono in corso attraverso il manager gialloblu Luca Martinez. Con quel sì finale la palla passerebbe definitivamente nel campo del presidente Kyle Krauss che dovrà confermare l'imponente investimento economico, compreso l'eventuale stadio provvisorio in provincia. Il Tardini diventerebbe così il nuovo stadio italiano più vicino alla realizzazione finale. Ed è quello che ci auguriamo, questo lo diciamo noi, la posizione è sempre stata molto chiara, i tifosi del Parma e tanti soggetti, tanti portatori di interesse, insomma chi sta osservando questa operazione per la maggior parte dei casi la giudica opportuna. C'è un investitore che mette sul tavolo tanti milioni di euro e questa è evidentemente l'unica soluzione per fare in modo che Parma abbia uno stadio nuovo, moderno, funzionale, sostenibile. Abbiamo detto della conferenza dei servizi. La cosa importante da sottolineare è che negli ultimi giorni, quindi nell'imminenza della fine di questi lavori, di PEC, di mail certificate ai portatori di interesse, a cominciare dal Parma Calcio, non ne sono arrivate. Quindi Assessore Devanna, possiamo dire che siamo a buon punto? Naturalmente glielo chiedo nel ruolo di Assessore ai lavori pubblici. Sì, siamo sicuramente a buon punto. Sono scaduti i termini per il deposito dei pareri degli enti che sono coinvolti nella conferenza dei servizi e che hanno preso visione della nuova versione del progetto definitivo che è stato depositato nelle settimane scorse. Adesso sulla base dell'articolo 53 della legge regionale 24 del 2017 facciamo un passaggio dovuto in Consiglio Comunale anche per la variante urbanistica, ma confermo i tempi che erano stati già indicati dall'Assessore Bosi. Entro la fine di aprile arriveremo praticamente al tratto finale e poi a maggio in Consiglio Comunale. Se tutto va liscio è una situazione da record, io ho qualche appunto. Meno di tre anni per il via libera della conferenza dei servizi. Pensate che l'ultima volta che questo accadde fu il 22 ottobre del 2018 per lo stadio di Bergamo. Il Tardini diventerà così il sesto stadio privato in Italia. Cito Sassuolo, Torino, Udine, Frosinone e Atalanta. Mentre arrancano altri progetti, Bologna, Cagliari, Venezia, per non dire di Milano. Allora, progetto, bene, sembra. Le indicazioni per le opere di cantiere come è normale che sia. Laura Cavandoli, anche in questo caso mi pare che tra qualche travaglio le cose stiano andando per il verso giusto. O si è perso troppo tempo anche qua? Io mantengo quello che abbiamo sempre detto e fatto come Lega. Abbiamo preso atto che l'unico investimento che c'era per la sistemazione di uno stadio, per dare uno stadio a norma per la nostra squadra, era l'investimento del presidente Krause. Quindi, chiaramente, si procede in questa direzione, non si lascia un Tardini a degradare, ma si investe su questa zona. Con un investimento privato. Io chiesi in commissione, molti lo ricordano, perché il presidente volesse investire così tanti soldi su Parma. Lui mi diede una risposta abbastanza, diciamo, preoccupante. Mi disse perché io voglio arricchire la città. Bene, ne prendiamo atto, però noi ci siamo sempre messi dalla parte di quello che devono fare, pensiamo noi come parmigiani. Quindi, attenzione ai parcheggi, alla logistica, come andare e tornare dallo stadio e dare il minore disturbo possibile agli abitanti della zona, sia nella fase di cantiere, sia nella fase successiva. E a questo si aggiunge la preoccupazione sportiva del nuovo impianto. Perché mi sembra che al momento si stia un po' brancolando. Allora, chiarissimo. Allora, sui cantieri siamo nel 2024. Vediamo in giro per il mondo dei cantieri, non dico indolore, ma quasi molta cura nei cantieri, oggi come oggi. Stadio temporale è una questione che deve decidere il Parma Calcio. Chiaramente l'amministrazione non può avere più di tanto se nessuna voce in capitolo. Vanolli? Una cosa velocissima volevo dire. Ci sono alcune amministrazioni in Italia che pensavano addirittura di usare i soldi del PNRR per fare gli stadi, che si è stato giustamente bocciato. Noi a Palma i soldi del PNRR li usiamo per fare opere sociali, come è stato detto prima, asili, scuole, opere che servono alla città. Qui c'è un investimento privato importante. C'è un'opera che procede quasi, adesso facciamo tutti gli scongiuri del caso, però se è così difficile fare gli stadi in molte città, come ad esempio Milano, città molto grandi, qui stiamo andando bene. Insomma, io credo che si debba sfruttare l'occasione di avere uno stadio nuovo, sostenibile e quant'altro, come dicevamo prima. Serena Brandini? Sì, io vorrei portare un'attenzione particolare rispetto al piano economico-finanziario, nel senso che, lo diceva prima l'assessore Devanna, più si perde tempo, più aumenta l'inflazione, più aumentano i costi soprattutto. Quindi la preoccupazione è anche che quel piano economico-finanziario poi non sarà così facilmente sostenibile dal privato. Ecco, penso che il Consiglio Comunale avrà una responsabilità importante nel capire anche gli anni della Convenzione. e sono un po' preoccupata quando la maggioranza tenta di tirare il più possibile su una diminuzione degli anni di convenzione, non tenendo presente che il piano economico-finanziario è veramente importante. Allora, sentiamo da Missione Parma qualche parere, siamo quasi in chiusura. Alberto Rugolotto con i tuoi ospiti, a te, a voi. Sì, assolutamente. Con Jacopo Ugolini, qual è la vostra posizione sul nuovo stadio Tardini che ormai appare imminente? Ma allora, noi guardiamo alla situazione stadio Tardini in maniera molto pragmatica. Eravamo e siamo a favore della ricostruzione dello stadio, ma chiaramente teniamo anche molto a cuore i cittadini, soprattutto coloro che vivono intorno allo stadio. Faccio un passo indietro. Il segretario Vanogli ha citato il sindaco di Firenze, colui che inserì il Franchi all'interno del PNRR, il sindaco di Firenze del PD sarà anche candidato all'Europea. Insomma, queste solide difficoltà interne alle correnti del Partito Democratico. Ma tornando sul tema stadio, appunto, andrà spostato, o meglio, ci sarà lo stadio temporaneo. Questo è scontato. Che non si va da Piacenza o che non si va da Fidenza. Ci mancherebbe altro. Sarebbe l'ennesima dimostrazione del poco rispetto nei confronti dei cittadini del Parma che ogni domenica lo seguono in casa e in trasferta. Quindi noi, come Missione Parma, siamo, ripeto, a favore della ricostruzione dello stadio Tardini, dello spostamento dello stadio temporaneo in provincia. Noi pensiamo, ad esempio, a Sorbolo, comunque zone vicino all'autostrada e, di conseguenza, allo stesso tempo però bisogna anche considerare un altro aspetto. La viabilità durante il periodo di ricostruzione. Torno a ciò che ho detto prima. Informiamo i cittadini. Saranno anni sicuramente difficili per coloro che vivono intorno al Tardini. Tutti insieme. La comunità parmigiana si è dimostrata una comunità unita e forte. e quindi supereremo anche questo periodo, ma al medesimo tempo. Però noi ci chiediamo, come Missione Parma, ma Assessore, che senso ha istituire un processo partecipativo? Cosa utilissima? Ci mancherebbe altro? Ma far guidare a questo processo partecipativo da una persona, chiaramente competente, pagarla 30 mila euro? Ma siamo sicuri che sia stato utile? Siete voi rappresentanti del popolo, Assessore? I consiglieri comunali, più di maggioranza che di opposizioni, in tal caso devono andare tra i cittadini e organizzare delle assemblee partecipative per chiedere il loro parere. E concludo Alberto, l'opposizione in Consiglio Comunale sia unita, tutta l'opposizione sia unita perché sia in opposizione, non sia in maggioranza. Quindi pragmaticamente, responsabilmente, si valutino le attività della Giunta, della maggioranza, ma comunque l'opposizione deve essere unita da qui ai mesi a venire per ricostruire appunto la Parma del post-guerra. Grazie a Jacopo Ugolini, io ringrazio anche Virginia Chiastra e Tommaso Moronizu, che questa è la loro posizione in tema Nuovo Stadio Tardini. Pietro, a te ringraziando anche Luca Carpigiani dietro la telecamera. Grazie Alberto Rugolotto, grazie ai tuoi ospiti, quasi in chiusura. Qualche risposta però qui la devono dare un po' tutti. Vi prego rapidamente, Assessore, informare, trasparenti. Siamo cercando di accelerare i tempi nel rispetto di chi abita lì intorno allo stadio, però l'abbiamo detto, i cantieri si possono gestire oggi in modo molto avveniristico, quindi poco invasivo. Stadio temporaneo, Fidenza, il presidente Massari, il sindaco Massari, ha detto proprio qui da noi, ci sono addirittura due aree disponibili, l'autostrada è lì, però questo è un altro tema, Assessore. Non ci siamo mai sottratti al confronto con i cittadini ed è stato questo il motivo per il quale abbiamo promosso un percorso di condivisione e di partecipazione con la cittadinanza tutta, non soltanto del quartiere, ma voglio rassicurare, io in quartiere cittadella, per parlare, per discutere anche di stadio, ci sono andato, il sindaco ci è andato, i miei colleghi tutti ci sono andati, quindi c'è un percorso di condivisione e di confronto costante, vogliamo arrivare a questo confronto con i dati chiariti in maniera inequivocabile ed è il motivo per il quale abbiamo chiesto queste integrazioni e stiamo rispettando in maniera assoluta, quasi religiosa, l'iter della conferenza dei servizi. Allora, grazie, onorevole Cavandoli. Rapidamente, noi continueremo a vigilare su quello che avviene in quella zona, perché è una zona veramente strategica della città, è quasi il centro della città. Stessa cosa immagino, pensi, di Serena Brandini. D'accordo, e se l'auspicio sarà quello che i cittadini saranno informati, i nuovi strumenti di partecipazione sicuramente ci aiuteranno. Bene, bene, bene. Vanoli, si parlava anche di chi ha guidato questa forma di partecipazione, insomma è stato evidentemente un passaggio necessario. È stato un passaggio necessario, come sarà necessario valutare e ridurre al massimo i disagi dei cittadini, perché è un cantiere importante e quindi ovviamente come tutti i cantieri importanti qualche disagio lo creerà. L'amministrazione è impegnata e farà di tutto per limitare il più possibile i disagi di chi abita in zona. Sì, ricordo perché mi pare che dal collegamento è stato detto cantiere a fine stagione. No, il Parma ha già detto che la prossima stagione sarà disputata al Tardini, giusto Assessore Devane? Si comincia l'anno successivo, no? L'individuazione dello stadio temporaneo, questa è una scelta che spetta innanzitutto la società, l'amministrazione può soltanto accompagnarla e condividere anche questa scelta. Grazie all'Onorevole Laura Cavandoli, parlamentare parmigiana della Lega e grazie a Serena Brandini di Azione, così come ringrazio il segretario cittadino del PD Michele Vanoli e l'Assessore dei lavori pubblici, sicurezza, legalità, Francesco Devane. Grazie Assessore e grazie a voi, ci vediamo martedì prossimo qui a Parma Europa. Buona notte!